Musica Devastazioni anarchiche, la regione si costituisca parte civile Approvata la legge sugli espropri Parco del Ticino, la riforma è rimandata Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati Ferma condanna delle violenze anarchiche che hanno devastato Torino sabato scorso Con la richiesta che la regione si costituisca parte civile L'assemblea legislativa ha approvato due ordini del giorno Firma Stefano all'Asia, Lega e Paolo Bongioanni, Fratelli d'Italia L'Aula di Palazzo Lascaris condanna le violenze e le devastazioni della manifestazione di sabato scorso a Torino Lo ha fatto con l'approvazione a larghissima maggioranza di due ordini del giorno Il primo, proposto dal presidente Stefano all'Asia, condanna fermamente i fatti Chiede che la giunta si costituisca parte civile E con una modifica sollecitata da Diego Sarno, Partito Democratico Che eventuali risarcimenti vengano destinati agli esercizi commerciali colpiti Degli atti da condannare da parte di tutti Perché si è devastato una parte della città Bisogna fare in modo che chi ha avuto danneggiamenti seri, privati e pubblici Siano ripagati al più presto Il secondo, a prima firma, Paolo Bongioanni, Fratelli d'Italia Impegna la giunta a concertare con Ministero dell'Interno e Prefettura Maggiori controlli alle frontiere e rafforzare la cooperazione con Europol e Interpol Per lo scambio di informazioni sui soggetti a rischio La Costituzione vieta la violenza a fini politici Da qualunque parte essa provenga Ed è quindi necessario mostrare rigore, fermezza Verso chi si macchia di tali atti delinquenziali Nel corso del dibattito sono intervenuti numerosi consiglieri di maggioranza e opposizione Voto a favore dei due ordini del giorno Perché non possiamo in questo momento, dopo quel che è successo a Torino domenica Dare un segnale che ci sono delle divisioni Sulla condanna degli allengiamenti, degli scontri E non dare un segnale di piena, ampia, completa solidarietà Io credo che lo scopo di questo atto di indirizzo sia quello di criminalizzare In generale tutte le forze che si oppongono nel nostro paese Quindi non mi sento di condividere questa confusione rispetto ai vari movimenti che ci sono nel nostro paese In conclusione l'assessore alla sicurezza Fabrizio Ricca Ha confermato la solidarietà alle donne, agli uomini delle forze dell'ordine Ai commercianti che hanno subito danni ingenti E ha annunciato la richiesta al ministro di vietare questo tipo di manifestazioni Che si trasformano in guerriglie urbane L'Aula ha poi approvato altri due ordini del giorno Affirma Alessandro Stecco e Stefano all'Asia Lega Rispettivamente su eliminazione del cancro della cervice uterina E obbligo per gli immobili residenziali del raggiungimento classe energetica E entro il 2030 Via libera anche all'atto di indirizzo Affirma Silvio Magliano Moderati riguardante la nomina dei componenti della commissione piano regionale AIDS E all'ordine del giorno presentato da Andrea Cane Lega Promozione di attività di comunicazione mirata a condannare la violenza Nei confronti dei lavoratori della sanità Via libera dell'Aula alla legge sugli espropri Per realizzare opere pubbliche di competenza non statale sul territorio regionale L'amministrazione pubblica potrà chiedere l'esproprio di beni immobili Anche in favore dei privati e la notifica potrà avvenire anche via PEC Lo prevede la proposta di legge presentata dal consigliere Walter Marin Lega con il consigliere Paolo Ruzzo La Forza Italia in qualità di secondo relatore di maggioranza Approvata dal Consiglio regionale Vuol dire ridurre i tempi ma anche i costi 20.000 euro per ogni comune Per i 1.161 comuni vuol dire più di 20 milioni di euro Che i comuni potrebbero potenzialmente risparmiare ogni anno E credo che in questi momenti sia molto necessario fare leggi Che aiutano a risparmiare la spesa pubblica piuttosto che incentivarla Un altro aspetto importante della nuova legge riguarda l'imposizione delle servitù di area sciabile Le domande di esproprio per questo scopo possono essere presentate sia da un soggetto pubblico che privato Inoltre la giunta regionale può conferire ai comuni e dagli enti locali territoriali competenti La funzione di autorità espropriante Relatore di opposizione Maurizio Marello, partito democratico Che ha messo in dubbio il fatto che la regione abbia effettivamente la potestà di incidere sulla materia Il problema è che se la regione o meno è competente per fare tutto questo Soprattutto con riferimento agli esproprio per pubblica utilità Perché sappiamo che c'è una competenza statale Per cui staremo a vedere adesso il governo come valuterà la legittimità costituzionale di questa legge L'Aula ha approvato le modifiche allo statuto della fondazione Centro per lo studio e la documentazione Delle società di mutuo soccorso che passa da regime ONLUS a quello previsto per gli enti del terzo settore Nell'illustrare la proposta l'assessore alla cultura Vittoria Poggio ha spiegato che le modifiche non alterano la natura Né le finalità della fondazione ma ne consentono l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore Con la possibilità quindi di usufruire delle relative agevolazioni Parco del Ticino, la riforma è rimandata Con un ordine del giorno approvato a maggioranza L'Assemblea ha stabilito di non entrare nella fase di esame dell'articolato della proposta di legge 133 Presentata dai comuni di Romentino, Bellinzago, Novarese, Cameri, Gagliate, Oleggio e Trecate Che riguarda alcune norme in tema di aree protette per la creazione di parchi interregionali tra Piemonte e Lombardia Nello specifico il Parco del Ticino Il vicepresidente della giunta regionale Fabio Carosso si è detto d'accordo sulla possibile utilità di una nuova legge Ma ha rilevato che il processo di raccolta delle ultime istanze dai territori non è concluso Respinta anche la proposta di legge 113, affirma Domenico Rossi, Partito Democratico Sul medesimo argomento che chiedeva di scorporare dall'attuale ente di gestione il Parco del Ticino E rivedere l'elezione dei componenti degli organi di gestione delle aree protette Nel dibattito sono intervenuti anche Alberto Preioni e Federico Perugini, Lega Che hanno concordato sulla necessità di una nuova legge Osservando che il percorso di ascolto dei territori e di elaborazione delle norme non è ancora completamente terminato La crisi di Egea Energia di Alba al centro dell'interrogazione Che il consigliere Maurizio Marello, Partito Democratico, ha rivolto alla giunta nell'ambito dei question time La regione vigili sulla crisi del gruppo Egea Energia di Alba Occorre tutelare lavoratori e territorio Questa la richiesta che il consigliere PD Maurizio Marello ha rivolto alla giunta Cirio La multi utility di luce e gas nata a Alba nel 1956 è in difficoltà a causa degli extra costi di gas ed elettricità E starebbe valutando di farsi acquisire dal colosso lombardo A2A In base ai dati ufficiali al 31 dicembre 2022 il debito verso i fornitori ammonterebbe a 101,4 milioni di euro Di cui 74,8 milioni già scaduti L'assessorato al lavoro sta monitorando la situazione Ha fatto sapere con una nota l'assessore Elena Chiorino Al momento non sono in corso procedure di licenziamento né di cassa integrazione Confermo fin da ora, ha concluso l'assessore, la massima attenzione per quanto riguarda il mantenimento dell'occupazione L'aula ha commemorato con un minuto di silenzio gli ex consiglieri assessori Franco Ripa e Guido Bonino Franco Ripa scomparso il 15 dicembre 2020 è stato uno dei personaggi principali della vita politica e sociale cunese Ha ricordato il presidente Stefano Allasia In carica dal 1988 in consiglio regionale nella lista del PSI Nel marzo 1989 fu nominato assessore al turismo Guido Bonino scomparso il 27 maggio 2022 è stato sindaco di Cuneo dal 1976 al 1980 Fu eletto in consiglio regionale nella lista di C nel 1988 Nel giugno del 1994 fu nominato assessore all'assistenza sanitaria Per questa edizione è tutto Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del consiglio regionale del Piemonte Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti